Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla quinta domenica di Pasqua. Mediteremo il capitolo 14 di Giovanni, dei versetti 1-12. Il cammino pasquale, lo sappiamo bene, è iniziato alla tomba vuota, con la risurrezione di Gesù. A partire da questo avvenimento è iniziata la corsa delle donne, dei discepoli, e oggi continua la corsa della Chiesa, di ciascuno di noi. Se è vero che oggi siamo presi da tante corse dettate dalle mille urgenze, è altrettanto vero che ogni corsa del cristiano, della Chiesa, parte da un'unica verità. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito, ricorda il libro degli Atti. Da qui, solo da qui, si spiegano le corse dentro l'esperienza della vita. Carità, educazione, catechesi, feste, lavoro, tutto a un unico punto di partenza. Gesù è vivo e vi raggiungiamo in ogni luogo di vita per annunciarvelo, perché lì dove c'è l'uomo c'è e ci sarà sempre la Chiesa, ci sarà sempre l'annuncio del Vangelo, la lieta notizia che Gesù è venuto a portare. Se perdessimo di vista questo riferimento, porteremo solo noi stessi, anche se facciamo delle cose bellissime, ma porteremo solo noi stessi, ma non Gesù Cristo, l'unico Salvatore. E allora, se vogliamo comprendere il cammino che stiamo compiendo, dobbiamo proprio partire da qui, perché la liturgia della Domenica ci sta educando proprio a questo, a tratteggiare il profilo del credente della comunità cristiana che è andato a formarsi a partire da questo incontro vivo e gioioso con Gesù risorto. E lui, ci ricorda la seconda lettura trattata dalla prima lettera di Pietro, e lui la pietra angolare, e lui la pietra d'angolo, scelta, preziosa, e la pietra viva che rende ciascuno di noi vivo. Spetta a noi partecipare alla costruzione dell'edificio spirituale. Oggi, prima di salire al cielo, tra due domeniche celebreremo la solennità dell'ascensione, Gesù comincia a educare i discepoli a questo distacco, a prendere coscienza che dopo la risurrezione è necessaria anche l'ascensione al cielo, il non vederlo più. Non sia turbato il vostro cuore. Con questo input ha iniziato il brano di oggi. L'annuncio del distacco, infatti, crea sconcerto nei discepoli, crea smarrimento, incertezza. E la paura che i discepoli sono ancora agganciati, imprigionati all'uomo vecchio, illuso di potersi salvare da sé con le proprie forze. Non è un semplice timore interiore. Ma è una vera e propria instabilità. La dipartita di Gesù mette in crisi. È il trubamento del cuore, che non riguarda solo la sfera emotiva, dei sentimenti, come siamo pensati noi di solito a ritenere, ma riguarda proprio la paralisi della volontà, l'incapacità di prendere le decisioni, e quel annebbiamento dell'intelligenza e del discernimento. Si diviene quasi paralizzati. Incapaci di affrontare le situazioni. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, dice Gesù. Gesù dunque con le sue parole sta facendo della sua partenza un'occasione di rinascita per i discepoli. Chiedendo la fede, li invita a uscire dalle loro certezze, ma li invita anche a uscire in questo momento dal loro terrore di ritrovarsi da soli. Devono imparare invece a vivere la vita appoggiandosi nel Signore. Lui promette di salire al cielo e di andare a preparare un posto. E allora si tratta di imparare a coltivare con il Signore una nuova relazione, un nuovo modo di relazionarsi con Lui. Ecco il punto nevralgico della proposta di Gesù. Di non limitarsi a una relazione di presenza, viva, concreta, come quella che stanno vivendo, ma di imparare a prendere coscienza che il Signore è in cielo, è andato a prepararci un posto e da lì ritornerà, ma lì ci attenderà anche. Perché ecco il senso e l'orientamento della vita, l'orizzonte ultimo della vita. E allora vedete che se da una parte c'è l'instabilità della paura, dall'altra il Signore Gesù ci indica dove sta la vera stabilità. La stabilità è in cielo, lì dove il Signore Gesù è andato a prepararci un posto. E allora vedete, questo vale per i discepoli di un tempo, ma vale anche per i discepoli di oggi, noi, ciascuno di noi. Quante volte ci ritroviamo in difficoltà? Ebbene, la difficoltà fa parte del cammino della vita. Anche la difficoltà del credere fa parte del cammino della vita. Solo in cielo avremo una certezza. E allora dobbiamo abbatterci di fronte alle fatiche, alle difficoltà, alle crisi che incontriamo anche nell'esperienza della fede. La fede in fondo non toglie le difficoltà, ma aiuta ad affrontarle, a superarle. L'importante è confidare nel Signore Gesù. Lui è presente, Lui ci sosterrà, Lui ci aiuterà. Ecco l'esperienza della fede. Non dobbiamo mai temere in questo. Nella casa del Padre mio, continua Gesù, vi sono molti dimore e io vado a prepararvi un posto. Come vi ho appena accennato, qui sarà la stabilità finale. Qui starà la stabilità più salda che noi desideriamo. Il nostro cuore in fondo è inquieto, traballa continuamente. E così sarà per sempre, finché non entreremo nel Regno dei Cieli ad occupare il posto che Dio ha pensato per noi. Nel frattempo, restiamo ancorati in Gesù pietra viva, preziosa. Costruiamo in Lui e con Lui l'edificio spirituale che è la Chiesa. Impariamo a offrire sacrifici spirituali a Dio. Sacrifici spirituali che non sono solo legati alla liturgia, ma a partire dalla liturgia si fanno vita quotidiana, si fanno esperienza quotidiana. La vita è un luogo teologico, il luogo dove Dio si rivela e dove noi possiamo rivelare l'amore di Dio. Nella nostra preghiera quotidiana, nel nostro vivere le opere di misericordia, offriamo al Signore le nostre offerte spirituali. Ecco la grandezza. Fare della vita veramente un Tempio vivo, vivente, attraverso il nostro impegno, attraverso la nostra collaborazione vicendevole, gareggiando a vicenda nel volerci bene e nell'aiutarci. Qui sta la grandezza. Nell'attesa di cosa? Che il Signore ritorni, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. Allora Gesù ci invita a vivere nell'attesa, l'attesa del suo ritorno, l'attesa del vivere sempre con Lui, insieme a quanti ci hanno preceduto. Il cielo è il nostro orizzonte ultimo. La morte dunque non è la fine di tutto, ma è il fine attraverso il quale entriamo nella vita eterna, ad occupare il posto che il Signore ci ha preparato. Anche i discepoli restarono sbigottiti di una tale proiezione. Ed ecco Tommaso, Signore non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? O Filippo, Signore mostraci il Padre e ci basta. Ebbene, quanto potrebbe apparire impossibile agli occhi degli uomini, Gesù lo rende possibile. Facendo della sua stessa vita la via, la verità e la vita. Gesù ha inaugurato un senso unico per andare a Dio, a noi stare dietro a Lui, perché la verità non è un'idea, ma è la persona stessa di Gesù. La via non è una via qualunque, ma è il modo stesso di vivere di Gesù che ci porta il Padre. Ecco allora, come ricordiamo ogni domenica, al canto del mistero della fede, annunziamo la Tua morte, Signore, proclamiamo la Tua risurrezione nell'attesa della Tua venuta. Le domeniche pasquali che stiamo vivendo in questo tempo veramente ci stanno aiutando a tenere presente che noi esistiamo in Lui, in Gesù, morto e risorto. questo è il nucleo che abbiamo meditato nel giorno di Pasqua, ma abbiamo imparato anche che siamo chiamati a portare a tutti questo annuncio nella misura in cui ne facciamo esperienza. Il tema l'abbiamo affrontato nella seconda e nella terza domenica e questo è possibile se impariamo a restare dietro a Lui e con Lui, quel Lui che è il buon pastore che abbiamo meditato domenica scorsa. Lui rimane sempre con noi per custodirci, per proteggerci, per rialzarci di fronte alle fatiche, ma andiamo avanti insieme. Ecco perché noi canteremo col salmo A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. Sì, perché è proprio nella grande assemblea che noi facciamo esperienza di quanto è bello e gioioso che i fratelli vivono insieme lodando il Signore. Carissimi amici, questi brevi tratti ci hanno permesso di capire il Vangelo che questa quinta domenica di Pasqua ci ha offerto. È un modo anche per sintonizzare veramente con il sentire e il pensare di Gesù e imparare a stare dietro a Lui restando in comunione con Lui e con gli altri. Ecco, allora a un certo punto dobbiamo farci una domanda. Abbiamo cercato di capire cosa dice il Vangelo e cosa dice a noi oggi questo Vangelo. Ma che cosa rispondo io al Signore di fronte a questa parola che Lui mi ha proposto? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta è la preghiera che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria. Come dice la parola stessa la colletta è un mettere insieme. La Chiesa ha messo insieme il messaggio di testi biblici di questa domenica e ne ha fatto una preghiera che qui ora vi presento. O Padre che in Cristo via verità e vita ecco subito il messaggio del Vangelo io sono la via la verità e la vita Tommaso riveli a noi il tuo volto e qui la risposta che viene data a Giacomo vedete fa che aderendo a Lui pietra viva come abbiamo meditato nella seconda lettura veniamo edificati come tempio della Tua gloria. In una riga e mezza è riassunto tutto il messaggio che ritroviamo nei testi biblici. Io rispondo invece in quest'altro modo ma prima di recitare la preghiera che ho cercato di comporre auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana cercando insieme di crescere alla scuola del Vangelo e che sia sempre una crescita vissuta insieme in fraternità. A te la mia lode Signore Gesù perché ti sei fatto uomo pur di salvarmi. A te la mia lode Signore Gesù perché con la Tua risurrezione hai aperto la via di verità che conduce alla vita. a te la mia lode Signore Gesù perché salendo in cielo mi ricordi dove sto andando e mi ricordi che tu sei la bussola che orienta i miei passi. A te la mia lode Signore Gesù perché mi aiuti a fare della vita una liturgia di lode come piace a te.